Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Cosa andiamo a vedere oggi? Un altro prodotto, l'Opiparo, quel negozio di Torino che fa forniture militari e non solo, di cui vi lascio in descrizione tutti i contatti. Cosa andiamo a vedere oggi? Un altro paio di scarponi della linea Soldini Professional, un paio di scarponi veramente ottimi. Adesso ve li faccio vedere, eccoli qua, uno e uno due, sono due scarponi studiate per l'uso professionale. Allora andiamo, vi vado a leggere subito due specifiche. Intanto è il modello 391, infatti non hanno un nome particolare ma hanno un codice, quindi che è il modello questo qua 391. Allora, la tomaia è in pelle bovino fiore color nero, idro repellente con inserti in cordura ad alta resistenza. Infatti la cordura, come ben sapete, è molto molto resistente sia all'usura che agli strappi, protegge molto bene. La fodera interna è in tessuto Climatex, una membrana completamente impermeabile e traspirante e le cuciture sono tutte termosaldate, quindi protezione dall'acqua massima. La suola in poliuretano, bicomponente, con battistrada in vera gomma, antistatica, antiscivolo, anticalore, quindi il massimo della protezione in tutti i tipi di terreni, soprattutto, come già detto, per un uso professionale. Il puntale è, infatti, un puntale che serve per proteggere il piede e resiste fino a una forza di 200 joule, quindi protegge veramente veramente tanto. Sono certificati UNI, EN, ISO, hanno tutte le certificazioni che servono per essere usati, come già detto, in ambito professionale. Sono molto molto belli, ma allo stesso tempo molto morbidi. Il collo alto protegge molto bene la caviglia e hanno due bande, una di qua e una di qua, per renderli molto più visibili. Soprattutto la chiusura è composta da tutti questi passanti dove si vanno a regolare tramite questo laccio e poi la chiusura si andrà a chiudere, scusate la ripetizione, tramite questa cerniera, in maniera che si possa tirare, si possano togliere e tirare fuori il piede con estrema velocità e rapidità. All'interno, la cosa bella è che hanno un codice, quindi ogni prodotto ha un codice personalizzato. Infatti, se ci fossero problemi, basta contattare la ditta e presentare quel prodotto e, scusate, quel codice e loro risalgono esattamente al tipo di prodotto che è. Veramente un ottimo stivale, veramente per tutti, tutti gli usi. Molto, molto comodo, soprattutto la gomma della suola è ben rinforzata, quindi protegge bene il piede, ma allo stesso tempo ne evita gli stress. Basta che dire, lo scarpone è molto, molto bello. Se avete domande, fatele senza problemi. Iscrivetevi al canale perché ci saranno tantissime altre recensioni. Inoltre, ricordo che nei commenti vi lascio tutte le indicazioni per il negozio Lopiparo. Bene ragazzi, vi ringrazio di avermi seguito e alla prossima!